Ben Aiu, bentornati su RealNapoliFootball Ragazzi, veniamo da due partite contro la nazionale italiana una peggiore dell'altra peggiore nel senso che purtroppo ci è andata veramente male con un parigi e una sconfitta vediamo adesso in questa puntata chi ci capita perché avrei tanta tanta voglia di fare i primi tre punti in divisione 4 nel frattempo Aiu, mentre cerchiamo il nostro avversario di stasera se vi fa piacere ragazzi lasciate magari un like a questo video e magari iscrivetevi al canale per continuare a supportarmi in questa scalata pazzesca che per il momento non stiamo facendo perché siamo ancora in divisione 4 ma per arrivare in divisione 1 con solo giocatori del Napoli avversario trovato vediamo chi ci capita Napoli-Mess Napoli-Mess interessante non ho cambiato stadio porca troia ah no, stadio quasi può cambiare cazzo, ma quasi cambia no, porca troia io lo devo cambiare per forza per forza dove vogliamo giocare ce la giochiamo ce la giochiamo l'olimpico anzi, l'omeazza Spotify Campionale lo facciamo stadio tranquillamente ragazzi mettiamo i football stadium che va più che bene ragazzi perché in casa io lo posso cambiare solo in casa giusto Napoli-Mess Salernitana vediamo 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 i nostri ragazzi come stanno ratazzi come stanno vediamo ragazzi vediamo tutti abbastanza bene Olivera sempre meglio del maestro ma faccio giocare Mario lui perché mi sento che farò una gran partita il resto è tutto ok ragazzi c'ho Simeone un fire ok nel secondo tempo faremo qualche sostituzione vediamo vediamo quando ci fa iniziare la partita il nostro avversario ci siamo ragazzi ci siamo Napoli-Mess alias Salernitana a quanto pare giochiamo contro gli amici di Salerno va bene così vediamo se cominciamo eccoci qua all'e-football stadium finalmente e non alle stadie di scopo si parte finalmente è una illuminazione decente si parte robot che ha palla per Mario lui il maestro prova ad andare subito Zirisky che si gira si è lo allarga per Crescia Kvara Scala dribbling Kvara ferma palla sulla linea Kvara scopo 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 accolpire attenzione Politano non riesce a riparare palla anghissà Zirisky Ostigard palla per Lobot attenzione Lobo vede Zirisky lo palla per Crescia Kvara Scala che prova il dribbling Kvara si gira Kvara vede anghissà che arriva anghissà prova il tiro e giro palo incredibile palo pazzesco di Zamm anghissà che lo stava facendo bellissimo contropiede del Metz attenzione Zirisky granico propalla appoggia per Giannino Di Lorenzo che la dà a Politano troppo lento Politano nel decidere che cazzo fare della sua vita niente da fare attenzione Loboska prova a dare una mano Oland la parata di Meretti che cosa ha preso Meretti che cosa ha preso Meretti ragazzi mamma mia che cosa ha preso Meretti la mano di Meretti è stata la mano di Meretti De Bruyne attenzione calcio d'angolo di De Bruyne Di Lorenzo c'è poi Zirisky prova ad andare da Politano che riesce a dribblare Politano prova ad andare da Ozyman la mette giù Ozy non riesce ad andarsene adesso prova ad andare su Courtois impressione attenzione Zirisky Courtois freddissimo verso Van Dijk prova il contropiede ancora il Metz che prova ad imbastire qualcosa Ostigard palla per Rackamani scende Rackamani appoggia per Lobotka che vede Karaschela che appoggia facile per Zirisky che si gira dall'altro lato Zirisky Zirisky dentro palla pazzesca per Ozyman che era un fuori gioco pensavo di no ragazzi ma non è fuori gioco Gesù non è fuori gioco ragazzi è drogato il gioco si è drogato il gioco non ci credo Meret mette palla giù palla per Ozyman che appoggia a Karaschela a Karaschela attenzione Cavara si ferma si ferma Cavara appoggia per Zirisky dentro per Ozyman si gira Ozyman Ozyman dentro Marò per Politano che sta uscendo un'azione pazzesca Ozy recupera palla si gira Ozyman dentro per Angissà appoggia di Lorenzo fuori per Lobotka Angissà ancora fermato Zambo Oland Oland prova il controvede ancora la serenità ne ha la smezza tutto il contrario come preferite meret rilancio lungo verso Ozyman che appoggia per Zirisky attenzione Ozyman recupera palla Ozy dentro per Karaschela 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 del Piero Angissà prova a recuperare Ostigard palla che arriva Politano che appoggia per Zirisky che la dà a Ozyman attacco per Angissà che fa correre Karaschela di Rimi di Karaschela se ne ha Karaschela dalla distanzissima e la palla finisce in calcio d'angolo buono così bene così ci stiamo provando tra l'altro si è ancora più realistico perché il Nauli purtroppo non ha più le reti bianca-azzurra quindi con la rete bianca che è anche meglio tra virgolette per la realtà cross verso Ozyman che prova ad appoggiare niente da fare Angissà bruciato dagli attaccanti prova a recuperare su De Bruyne riesce a disturbarlo quantomeno Politano prova ancora a disturbare Ozyman va su Courtois che per poco non riesce a rubare di palla attenzione ancora il Metz gran palla recuperata con Mario Lui che va da Zirisky e appoggia per Quaraschelia Quaraschelia si gira dribbling di Cavara pallo su Cavara Zirisky guarda subito a Quaraschelia che vero è Politano 1-2 con Politano attenzione Quaraschelia dribbling di Cavara dribbling niente da fare ho provato il secondo dribbling attenzione grande break di Mario Lui poi Zirisky palla per Quaraschelia ancora si ferma Cavara dentro per Anghissà gira Anghissà il costo di esterno c'è Simen non riesce a colpire attenzione Giannino di Lorenzo prova ancora a chiudere Giannino prova a regolare la palla ma Del Piero fa una giocata pazzesca Zirisky attenzione Anghissà prova a dare una mano c'è De Bruyne ancora Anghissà non riesce a regolare la palla peccato attenzione Zirisky deve venire a chiudere assolutamente eeeh 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 mamma mia meretta mamma mia meretta su PMP parata di meretta su PMP gran parata De Bruyne attenzione cross e mezzo ancora c'è Olanda la palla arriva ma politano riesce ad andarsene politano attenzione che cazzo ha fatto politano ragazzi ma che cosa ha fatto contro Vede il Piero tira giro ma che passaggio ha fatto di politano a Yulam metà campo Osimene palla per Osticard che allarga per Mario Lui con la schelia con la schelia con la schelia con la schelia prova a capire cosa fare con la schelia appoggia poi per Anghissà Anghissà dentro per Osimene ma porco Dio salvando la palla in maniera assurda Osimene questa è una rete che cambia tutto anche nella testa del mister adesso ha pochi minuti per ripensare alle indicazioni da dare andrà a lungo giustamente direi Osticard ma ha sbagliato ha cambiato fine il primo tempo ragazzi vantaggio Mets cosa le vernitane 1-0 partita equilibrata ma abbiamo preso un gol a giro da Del Piero aiuto troppo i fenomeni sono i fenomeni non c'è niente da fare non c'è niente da fare Osimene proviamo il pressing Cancelo attenzione Osticard su PMP Mario Lui su PMP ancora Cancelo entra Cancelo Mario Lui bel recupero palla di Mario Lui palla verso Osimene dietro al lobo la prova a ritare Osimene Politano Osimene troppo 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 difficoltoso questo scambio poi Rachmani appoggia dietro verso Meret che va da Di Lorenzo con un po' di brivido direi Di Lorenzo vede Anghissà anticipato da Koundé controfiede attenzione per la Salernitana Osticard ferma tutto Rachmani appoggia per Di Lorenzo che appoggia per Lobot cadendo per Osimene per Ziediski per Paraschelia prova ad andarsene Paraschelia si ferma Gira dall'altro lato Paraschelia vada Lobotka attenzione Lobo passaggio per Politano vada Ziediski appoggia per Paraschelia bella azione manovrata qui Paracross cross in mezzo Courtois 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 proviamo a buttarci un po' in attacco abbiamo manovrato bene qui ma non siamo riusciti ad arrivare al tiro Osticard prova ad anticipare ci riesce Pempe Mario lui allarga per Paraschelia Paraschelia dribbling di Cavara dentro per Ziediski bella palla di cuore per Ziediski Ziediski arriva al cross in mezzo Calcio si menna Calcio d'angolo incredibile non è calcio d'angolo incredibile sembra che abbia sbagliato il controllo mettendo la palla fuori era un'ottima occasione agli avversari di sicuro non dispiace che sia sfumata così provo ad andare ancora lungo questo probabilmente vediamo e invece Nì nel senso che va un po' più lungo dietro entra Cancelo che non recupero palla di Ziediski Cavara Schelia si ferma Cavara Schelia si gira cross di esterno palla sul portiere che fortunatamente mamma mia Ziediski che cosa ha messo giù Cavara Schelia pallaccio su Ziediski calcio di punizione forse era meglio che si rialzava si rialzasse Ziediski per andare al più comunque 0 Zielo ok proviamo ad andare da Osiman Ziediski verso Osik che prova a spizzarla troppo lunga troppo lunga la spizzata di Osi verso il capitano Courtois prova a rilanciare subito attenzione Anghissà Quara Schelia prova a pressare Pressing ripara Courtois riesce a rilanciare Lobotka per Anghissà palla per Ziediski che va dentro da Osiman attacco per Anghissà niente da fare Rachmani appoggia per Di Lorenzo ci stiamo provando a premere scende Giannino dentro per Lobotka Lobotka per Ziediski che prova ad andare da Anghissà niente da fare ragazzi niente da fare ripartenza del mezzo ancora con Del Piero palla recuperata e poi Ziediski appoggia per Politano per Osimena che si fa divorare dall'avversario qui peccato attenzione Giannino Di Lorenzo Ziediski niente da fare perdiamo l'annissima palla Pempe Pempe Ostigar calcio d'angolo calcio d'angolo un po' demoralizzato sincero e andò infatti dato questa demoralizzazione mi sa non sta facendo un partitone enorme andrò con un ignorantissimo e ripeto ignorantissimo 4-2-4 con la doppia punta proviamo a recuperare oh che cazzo questa partita in qualche modo mettiamo Lobotka più qua Ziediski più qua vediamo se possiamo fare qualcosa al centro campo ma ne dubito cioè il massimo oddio c'è Caciusto faccio entrare Caciusto al posto di Lobotka non è proprio la stessa cosa ma è più fresco faccio entrare Olivera al posto di lui ok Gaetano Caciusto Zerbin no si me ne ho fatta entrare adesso vanno tutti bene proviamo proviamo a creare qualcosa non sta andando per nulla bene fino ad ora vediamo un po' De Bruyne De Bruyne ancora calcio calcio d'angolo ancora calcio d'angolo ancora calcio d'angolo attenzione cross immediato mamma mia politano proviamo a metterla fuori non ci riusciamo ce la si menna mamma mia prendiamo il solito gol di merda il solito gol di merda ragazzi mamma mia offrevo offrevo mamma mia ragazzi mamma mia che gol di merda delivering di Giannino ormai purtroppo non abbiamo più nulla veramente nulla da perdere di Lorenzo si ferma pure giustamente attenzione politano cortoà possiamo prestare un po' pressing a vuoto chiaramente unesima partitaccia ragazzi questa volta ce la siamo giocata di più ma non riusciamo a segnare non segniamo più mamma mia calcio d'angolo sono estremamente demoralizzato estremamente demoralizzato ragazzi andando tutto veramente male tutto veramente male meret prova a rilanciare verso Semen che appoggia per Kvara Schelia mamma mia Kvara riesce ad andarsene per una volta appoggia per Ziliski che vede dall'altro lato infatti lui la dà a Simeone perché mica mica di all'aria mappolitano che ho premuto gli analogici di là no diamola a Simeone perché era lui proprio il destinatario del passaggio giusto così Ostigar recupera palla attenzione che è entrato che è entrato Ziliski Simeone Osimene si gira Osimene prova ad andare da Kvara Schelia Kvara Schelia si ferma Kvara poggia dietro per Olivera cross di Olivera colpo di testa di Zelo Courtois facile facile la blocca vabbè vabbè Courtois rilancio lungo attenzione Rachmani prova a contrastare Osimene non ci riesce capitano prova ad andare su Del Piero Caciusto non riesce ad intervenire De Paul ancora Pempe recuperiamo palla incredibilmente Caciusto palla per Ziliski niente da fare Olivera riesce a recuperare palla prova il tacco niente da fare poi Ziliski perde palla ancora su Kimmich figurate che te lo dico a fare e palla per Di Lorenzo che la dà Caciusto partita praticamente finita Caciusto prova ad andare da Politano Politano dribbling di Politano dentro palla per Simeone brutta partita ragazzi brutta partita nonostante che abbiamo attaccato l'anno niente da fare ci vediamo alla prossima partita grazie a la partita grazie a tutti grazie a tutti